Stacco della macchina con Nada Mas, Nicky Rock, allargo Nawel WF, c'è strappo, Nicky Rock passa nei confronti della condiscendente Nada Mas, all'esterno Nawel WF che non trova posto, ha in schiena Narco Sennepingue, Virilli, Luca D'Ieso, l'errore e la squalifica per Norton Jet. Terza parida di fuori per Invader, AS a tiro già dei primi 14.6, il lancio corre ancora davanti Nicky Rock. Si va verso il completamento del primo quarto di gara con Nicky all'avanguardia che modera e vi arriva in 30 abbondante 15.7 dopo il parziale iniziale, la mossa in terza corsia dal fondo del gruppo a destabilizzare il tutto di Noblesse, come sull'ulteriore rallentamento da parte del leader. Si va ai 600 così, in uno schema che non muta se non per la composizione dei pezzi del plastico. 47.2 i 600, ora di fuori scoperto c'è Noblesse-Komo, quando si viene a un giro dalla conclusione, in vantaggio Nicky Rock nei confronti di Nada Mas e Noblesse-Komo, che traccheggia mezza via fra Battistrada e chi lo segue, quindi il duo composto da Luca Di Ieso e Nowell WF che si vorrebbe ammazzare. Viene via, invader a esse in terza corsia in aggiramento su Narcos NP, chilometro 9.17 con Nevergar che anticipa invader a esse. Va lui a fare la schiena di Narcos e di Nowell WF quando si è a metà della dritta in fronte. Noblesse-Komo pigia sull'acceleratore a lato di Nicky Rock. Seconda pariglia sempre per Nowell WF, in tasca c'è Nada Mas, non ha spazio per respirare, Luca Di Ieso viene via in terza ruota a Nevergar. All'ingresso alla dritta arriva Noblesse-Komo che passa nei confronti di Nicky Rock, in terza corsia lo scatto di Nevergar, accento al termine di dentro anche Nada Mas, Nevergar che va su Noblesse-Komo, l'attacca, la copre, tende a passare sul traguardo, i due in linea, avanti a Nowell WF che è ottimo terzo, è strabuono per la prossima. Due minuti, un filo abbondante, uno 15-1, ci sarà foto e forse anche stretta, le telecamere vanno su Noblesse-Komo, andiamo a rivedere la dritta arrivo con lo scatto di Nevergar a largo che rimonta l'avversario, lo copre interamente, c'è da capire ora gli ultimi passi, trotto con Noblesse-Komo che ha ancora qualcosa in zona traguardo, Nevergar cerca disperatamente e copre, ma forse dopo il filo. Terzo di sicuro, sei in Nowell WFF, tenete i biglietti in attesa, il vero detto è il giudice d'arrivo.